Al di là dei numeri i dati sono fortemente negativi per quanto riguarda l'accesso al credito. Proprio qualche giorno fa abbiamo diffuso a livello regionale la nostra nota dove colloca l'Abruzzo, ultima regione d'Italia in termini di erogato di finanziamenti all'artigianato, quindi alle piccole imprese. Abbiamo registrato in questo ultimo anno un meno 8% ma il dato proprio negativo è che sono 8 trimestri in cui il dato è sempre negativo, quindi c'è una difficoltà proprio tangibile e riscontrabile dai nostri imprenditori per quanto riguarda le politiche dell'accesso al credito. Su questo adesso stiamo incalzando la regione perché non è più tempo di tergiversare, abbiamo la necessità di avere una boccata di ossigeno subito ai nostri consorsifili che di fatto quotidianamente stanno sul fronte per sostenere l'accesso al credito delle piccole imprese e soprattutto per dare una risposta ai tanti imprenditori che continuano a vedersi negate le richieste di finanziamento tramite le banche. Prospettive per il nuovo anno? Dei segnali incoraggianti si intravedono, è chiaro che l'aspetto principale è la tassazione, quindi a mio avviso per far ripartire l'economia c'è necessità di ridurre la pressione fiscale, non con operazioni spot tipo i bonus assunzionali o altre cose di questo tipo, ma è necessaria una fiscalità di vantaggio alla portata di tutte le imprese, solo così riusciremo a far ripartire l'economia, a rendere la nostra economia, il nostro tessuto imprenditoriale, a renderlo competitivo e appetibile.